Una situazione familiare complicata e dissidi tra madre e figlia. Sarebbe questo il motivo per cui la donna avrebbe chiuso la ragazza di 14 anni nella loro casa al secondo piano di una palazzina, in via San Martino da Fano, in centro storico, per poi andarsene. La giovane, la quale ha allertato il 112 intorno alle 9 di questa mattina, è stata poi recuperata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due mezzi, chiamati in supporto dalla compagnia locale dei carabinieri. I pompieri sono entrati in casa da una finestra sul retro in via dei palazzi Gisberti, liberando così la ragazza, che sta bene ed è stata messa in salvo illesa. Sono ancora in corso gli accertamenti per fare luce sull'accaduto. Tuttavia, sono stati coinvolti i servizi sociali. Si stanno valutando inoltre le responsabilità del genitore.